Presentato giovedì 29 novembre a Lecco, il terzo quaderno dal Consiglio regionale di Carlos Preafico. Dopo governatore badante e non siamo tutti uguali, ecco tramonto celeste Alba Democratica, scritto con il giornalista Costantino Corbari, in cui il consigliere del Partito Democratico prosegue nel racconto della sua attività in regione Lombardia. Il titolo di questa terza pubblicazione è ironico, ma è focalizzato su cosa è successo negli ultimi mesi della giunta Formigoni, che ha portato allo scioglimento del Consiglio lo scorso ottobre. Nel testo, inoltre, anche molti spunti di riflessione sulla nuova fase politica che si sta prendendo in regione Lombardia. Abbiamo presentato oggi il nuovo quaderno dal Consiglio regionale di Carlos Preafico, Tramonto Celeste, Alba Democratica. Quali sono i contenuti del libro e perché questo titolo? Il titolo è pleonastico, il celeste come è noto il governatore e quindi il suo tramonto non poteva che essere il foriero o passaggio necessario per arrivare a un'Alba Democratica, la nostra, quella che segna, auguriamoci il più rapidamente possibile, la nascita di una nuova era in regione Lombardia dopo 17 anni di dominio del Celeste. Quindi è un titolo un po' ironico, ma mi pare sintetizzi molto bene quella che può essere la sintesi della fase in che stiamo vivendo. Il lavoro contenuto in questo quaderno, che è il terzo dopo quello pubblicato a fine della passata legislatura come bilancio su quei cinque anni là, ce n'è stato un altro in primavera che faceva il punto sulla prima metà di legislatura. Sinceramente questo io pensavo insieme a chi mi ha dato una mano e che ringrazia, cioè Costantino Corbari, di doverlo scrivere fra un po' di tempo. Abbiamo dovuto accelerare perché in realtà la situazione stava precipitando e quindi adesso stiamo preparando il quarto di questi quaderni, ognuno dei quali descrive un po' sotto forma di diario la vita di consigliere regionale, quello che ho fatto e ovviamente lo descrive tutto questo dal mio punto di vista, che è il punto di vista ovviamente di un uomo politico di parte, nel senso che sono impegnato in una parte politica senza pretesa storica e neanche senza pretesa di obiettività. Ora Spreafico sta lavorando al quarto e ultimo quaderno, che terminerà il racconto sul suo lavoro come consigliere regionale.